Siamo contro Pippo Fantoccio Ok Pippo Pippo Fantoccio abbiamo Oh Gesù ragazzi, Gesù Maria Giuseppe qua Ok Ok Eh sì, eh sì, questo è un lavoro difficile ma qualcuno deve farlo Trynda maybe smurf Ma c'è Trynda jungle Oh, ha avuto un ca... ma che cazzo è successo? Sta droppando la connessione di Twitch, oh what the fuck Ragazzi? Ragazzi, è successo Oh Eh, ha esploso un attimo Twitch, ragazzi La sentiamo, è adatto per i miei Twitch, ragazzi Io non sto tranquillo qua in game, quindi è stato Twitch No, no, tranquilli, tranquilli Vabbè, e niente, ha avuto... C'è stato un attimo di crash del sito E basta, vabbè Poco male, tutto bene, l'importante è questo L'importante è che non sia io Infatti la prima cosa che ho fatto è Affacciarmi in strada e dico Ma stanno ancora lavorando davanti alla mia cabina Invece no, era stato un attimo Eh, lo streaming Che boh, è andato un po' Cazzo so, va bene Ti diverti? Prendi Oh, va, i minion qua mi hanno disintegrato Che vinca il veleno migliore Ah, ditemi se con l'audio si sente bene Che con le nuove cuffie ovviamente è da ricalibrare tutto il suono Qua su in streaming e quant'altro, quindi Cioè tipo lo sento più basso di prima Però voi dovreste sentirlo uguale Sennò addirittura più forte Ma lì che pizza ti sei presa Eh? Ti sono piaciuti? Ci hanno divertiti, Cassio 4, 5, 6 Un attimo, qua devo fare Oh ma porca puttana Ok Grazie mille Ermagruz Ridare il Matera Ma scusa, gli bastano i soldi che gli ho dato? Cioè ma sta contenti Ma poi il raid Ci manca solo questa Grazie dei beats comunque, cara Ah Uno per uno One for one Va bene lo stesso Lei purtroppo c'ha il TP Però c'ha la wave a favore Quindi sti cazzi mi va bene uguale Anche senza TP Anzi lei devi tippare per forza Se no si perde un sacco di minion A me va bene perché invece A me arrivano tranquilli sotto torre Ok Sembra che Non ci siano altri problemi Da quel che posso vedere Qua non vado a fare sneaky sneaky da invisibile Perché non ha senso Tanto c'ho troppi minion Non potrei ingaggiarla Di invisibilità Comunque diciamo ragazzi Ittimi se a livello di audio va tutto bene Comunque avesse avuto l'ignite Prima l'ammazzavo Poi non ci sarei neanche morto Però Ho preferito andare di cleanse Chi è? Lux? Perché Lux sta tippando mid? Oddio Sì ma non vale Ma già parte l'1v2 ragazzi E già parte l'1v2 Vabbè A me sembra perfetto Meno male E che cazzo Non si può vivere in un mondo del genere C'è un po' di rispetto Vabbè almeno l'ha fatto Perver dell'exp A fargli capire chi comanda Attenzione Che vinca il champion più ignorante qua Veramente Back Ottimo Grazie mille Spullax Del Prime Benvenuto Spullax Da Felix Army Ti ringrazio caro Ti ringrazio Prendiamo anche queste Che Fan sempre comodo Le pozzoncine Specialmente in una guerra di logoramento Contro quella con Cassio Bella sta wave Guarda come finisce sotto torre Sapete perché è buono? Perché così La torre ha ammazzato più Tanti dei miei minion E quindi Lei è costretta a pushare la wave Perché avendo più minion Per forza di cose Arriveranno addosso a me Questo è buono Perché tutti questi minion Io me li prendo E non muoiono a cazzo Tanta tanta roba Ok Comunque Twitch AP È diventato straforte Da quando Gli hanno fatto sto buff Random Comunque la realtà Ha deciso che doveva essere AP Twitch Non è che non fa ste cose a caso Cazzo Però lei c'ha il conqueror Ho esagerato qua Eh sì Male 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 ragazzi Mi ha disintegrato Con quel conqueror Devo doggiare le Q Sennò mi distrugge Se le doggio una Q Vinco Basta quello Non devo farse stranzate E il cleanse Ancora non mi è servito a niente Vabbè Speriamo sia un buon investimento Come le carte di Yu-Gi-Oh Grazie Caleb Per i tre mesi Bentornato Bello Bentornato Pippo Fantoccio C'è lì Come sta andando Pippo Fantoccio Beh va Buon Pippo E dai Pippo Via qua però Eh sì Oh attacca Che cazzo Che è che c'ho ancora poca attack speed Ma non resettare così autoattacchi Twitch Che cazzo Adesso quella Gli tiriamo Una bella W in bocca Così la smette di fare L'idiota Vabbè Rip Pippo Per adesso Andiamo back Lux si chiama Pippo Fantoccio Assolutamente sì Un nome Una garanzia Garen ragazzo Eh però qua Garen tira L'ult in bocca Vabbè Non è neanche necessaria Ai 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 Questi Sti berserker Qua Io non lo capirò mai Cioè ok Garen Lai scala Attack speed Però non capisco Perché le berserker No Vabbè Non penso che cazzo Esatto Stava andando Verso la bot però Anzi Pushiamo Così Mi levo dalle palle Eh ma la chi c'è qua Hello Arriva Cassio Arrabbiatissima No Great Eh sì Puoi dirlo forte Bobby Great Andiamo di scarpette Fingiamo che manca Cassio Eh Non posso più pingare Vabbè Lo saprà che c'è Cassio Lì davanti Gli lo ping Vabbè Cassio Però Quelle Niente Passiva attiva Why do you run Go ahead Non so con chi Stam parlando Ma mi sa con Garen Eh vabbè Sovietlio Grazie del prime E benvenuto A verizzarmi Bello Benvenuto Vabbè Ma io ragazzi Sono anche giustificato Cioè io non gioco Da una settimana Eh Sono effettivamente Giustificato Ho il diritto Di Di dovermi un attimo Riambientare Oh no ragazzi Però Di certo Mi Riambienterei un po' meglio Se voi Cliccassi sul tasto Abbonati Perché ricordate Che i soldi Sono un ottimo carburante Quindi abbonatevi gratis Con il prime O pagando 4,99 Non ve ne pentirete Ah vuole colpirmi A tutti i costi Ma non ce la fa Ah senza cleanse Non posso combatterla Quindi Però posso andare Bot Arrivo Sì Ok Una bella ult In anticipo L'avete vista No Quella ti flasha in faccia Ma ha ultato Non ho visto Vabbè L'hanno uccisa Importante è quello Ah Pusciamo in fretta qua È ok ragazzi Ok Te la killavi Cassio Ma senza cleanse Mi tirano ultimi One shot Ragazzi Non sottovalutiamola Ho già L'ho già sottovalutata Abbastanza prima Cioè veramente Cassio Ti Ti tirano ulti Poi Ti spammano E sei morto Oh no Non c'ho mana Per tirare la E Adesso Eh ragazzi Io non c'ho mana Quindi Abbiate un attimo Di pazienza Ok Recupero mana Arrivo Già Rive Già Rive Din 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 Adesso arrivo io Penso io a voi We Pippo Vabbè Pippo Ci saluto Oh Pippo Affanculo Vabbè Ecco Riuscito a prendere lui Incredibile Va bene lo stesso Chi c'è qua Vabbè Easy Ma Trynda No Do sta Ma Vi ricordate che all'inizio qualcuno ha detto che Trynda era probabilmente Smurf Vi vorrei sapere cosa ne pensano adesso Trynda Smurf Che sì ragazzi Sì sì Due volte Ve lo lascio Ha i più buchi del mio formaggio preferito Va bene Ottima citazione Twitch Mi piace Grazie BCOs Grazie del Prime E benvenuto nella Vierix Army E bentornato anche a Rain Due mesi Bentornato caro Grazie a ReSab Anzi Ma vendiamo sto affano Ma chi se ne fotte ragazzi Delle Delle control Cioè subì Tu ci sei in tenere i buchi Ma stai lì Zazzà e passa la paura Occhio Mo ci penso io No Non ci penso più tanto Guardate che veramente Cassio la faccio saltare per aria Sì ma Uff Il Cleans Non l'ho fatto neanche con un ottimo tempismo Ma ho tirato comunque un Grand Cleans Cosa mi pingano? Cosa volete amici? Strage Cioè volevo dire Ma che è successo? Gane ha tipo Lui fa il Bodyguard Hai capito? Cioè appena arriva qualcuno Lui sta lì Aia Che palle Lux Bene va bene Sì Tic 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 E questo è quanto Io purtroppo non c'ho mano Non c'ho più niente Anzi non so neanche se riuscirò a salvarmi da qui Fammi un attimo vedere Doggiamo Lux Eh Beh abbiamo fatto un'ottima cosa fin di conto Eh ragazzi mi serve un attimo recuperare Ah Ok eh Non avevo l'Attack Speed della Q Mannaggia Ok 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 Va bene Il Collector addirittura Eh effettivamente una bella build Ibrida non sarebbe neanche male Però no Andiamo di Rabadon Rabadon e passa la paura Già già Mi sforzo un Godlike Eh ragazzi Eclipse Power Rep Jungle Oh yes Ma secondo me sto Trynda ragazzi è Comparabile a quello Shinzao Ahmed Sapete Per me siamo lì A livello di skill Ma io sono fratelli Buonasera Christ Qualche consiglio per giocare giungla Eh ma qualche consiglio per giocare giungla Non è Cioè Non è che puoi dare dei consigli generali così È dura Cioè prova a leggere l'altro jungle Cerca di predictare Sapere dov'è È questione di allenamento L'unico consiglio che posso darti è Segui dei main jungle bravi E cerca di capire da loro Io non ho molto da insegnare Vabbè ma quello se lo fa anche da solo Cioè nel senso È mastery Contro Lucian Ops Però Adesso moro Oddio grazie Morgana ti amo Mamma mia Morgana Che mi ha salvato dal grab di Darius Uuuu Per quello vedete non voglio mai verla contro Mamma mia ragazzi Morgana mi ha salvato dal grab di Darius Tanto ma sti prende le herald Vabbè Sì sì ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Xenar Ce l'ho Ancora lì Con le sue Boh 200.000 views Non so quante ne ha Tante però Ragazzi ma Morgana è troppo forte Ho sempre detto che quel champion è troppo forte Troppo versatile Troppo utile soprattutto Cioè il black shield di Morgana è troppo forte Secondo me Secondo il mio modesto parere Manco se ne accorta Troppo più Mamma che colpo ho tirato a quello Sergio No 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 Scherzavo Ho preso un assist però Buono Fatemi andare back C'ho il mio rab a donne A smiley Smile eat a face Grazie del prime E benvenuto a verixarmi Bello Grazie del supporto Ragazzi se vi piace a live lo sapete Kiccate il tasto abbonati Abbonatevi gratis col prime Supportate questo stream Che chi vi porta Dei troll più che così belli Il famoso twitch mid Tanto diventerà meta Quando scopriranno quanto è bello Clearare la wave con w La gente lo spammerà C'è poco da fa Me lo lasci? Dai per favore Grazie Sei troppo gentile Un gentleman Certo che è da uncut questo Tu 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 Oddio Garen contro tutti Adesso arrivo io Garen Tienili Tienili Garen Bravo Dei matcha Aaaaaaah Che schifo i poveri Smile donated 5 euro Ma dopo un po' LOL non ti starca Ma quella dove con cosa ha perso gli HP Ah beh gli ha perso gli super minion Tu 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 Pippo Addio Pippo Rip Pippo Rip Pippo Rip Pippo Rip Pippo Grazie smile della donation Vabbè Vabbè smile ma mica faccio solo quello No non mi stancho Mi diverto abbastanza Grazie mille Grazie mille Ripippo dai Honor Garen per quel De matcha finale Che è stato veramente Succoso Ripippo Ha ha Dunque Impriva quanta gente giochi lux Nesto gioco Cioè What Bronzo Ok Avete visto Che dovevate lasciarmi giocare Il mio Twitch mid Avete visto Eh questo è il risultato Noob team Oh Diglielo Darius Noob team